Ciao io sono Alice Aspetta che adesso sta registrando Ciao sono Alice Oggi faremo un mangio per i nostri scarti Con mio papà Benato Ciao io sono Fabio Allora iniziamo con questo ingrediente Adesso lo mettiamo nel cucchiaio Un cucchetto Ma non so se gli piace a mio papà Apri Ha mangiato Ha vendato Non vuoi ancora un po' Ancora? Sì e cos'è? Pepe? Non so come stai sciando ecco Mamma cos'è? È la curcuma sta qua Bravo Adesso Mamma Aspetta ti prendo un po' d'acqua Oh cavolo Ne è acqua sta qua Sì è acqua L'ho preso il rubinetto È calda Ok E il prossimo Mamma è calda È questo Questo è buono secondo me Mangio scarti Mangio Mangio Si sente l'odore questa Dai No Oh cavolo Oh cavolo Mi può me che scatta la cosa sulla mano Quindi te l'hai buttato fuori da cucchiaino Cos'è? Mangio È buono È l'orzo questo Beh è squeak Mesqueak No ancora allora No ce l'hai tutto qua Prendilo tutto qui Ce l'hai tutto lì Che vero che c'è da tu E il prossimo Tava acqua Schifo Tava Tava acqua Caglia Sì ma è calda Cambiala E poi spingono E' questo Ma questo mi fa paura Dare un uomo Ma mangi? Sì 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 Posso lo mangi anche io adesso Mamma cosa dici? Mangio Mai mangia Dai Non buttarla tutta fuori È scaduta Com'è scaduta? Cos'è? Che schifo Non è scaduta È la mozzarella Per la pizza Non è scaduta La sto mangiando anch'io No Vabbè Due No Talla su tre o qua? No due su tre No No Posso togliere? Sì vai Adesso Adesso dobbiamo far scambio Chiudo Ok ci vediamo un po' Intanto ci sistemiamo Ciao 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 E ora ci siamo con la rivincita Cheese Sempre Fabio e Alice Pronti con il primo ingrediente Ho paura Mangio Le patto a vedere Ma È buono Che cos'è? Che schifo Non ce l'ho capire Che cos'è? Boh Non lo so Che cos'era? Niente No Non so Il latte di Michael Era difficile Mangi o scarti? Mangio Mangi È un po' d'acqua però Ok Mi portate che non sia sale Che schifo Scambio Gli Boc Gli Boc